Maxime Gorky è tornato nella sua casa in Italia, Sorrento. Il monumento dedicato al grande scrittore russo che soggiornò per nove anni dal 1924 al 1933 nella villa Il Sorito, del capo di Sorrento, è stato inaugurato a Piazza della Vittoria, alla presenza di autorità civili e militari, istituzioni e rappresentanti di enti ed associazioni culturali russe ed italiane. Inga e Timer Bulat Karimov, ai vertici del Fondo delle Letterature Nazionali, hanno voluto donare l'opera alla città. Karimov, che in qualità di sindaco di Plios, località situata sulle rive del Volga, organizza ogni anno rassegne e manifestazioni culturali dedicate all'Italia, ha dichiarato che il monumento a Gorky getta un nuovo ponte tra le culture e guarda con grande ottimismo verso il futuro di relazioni tra i paesi. Il comune di Sorrento, che ha una grandissima stima per l'arte di Gorky, ci ha proposto questa iniziativa e noi l'abbiamo subito sostenuta. Io credo che Italia e Russia siano più vicine di quello che sembrano, perché hanno la stessa cultura e si nutrono a vicenda con il patrimonio culturale che hanno. In apertura dell'evento, organizzato in occasione dei 150 anni dalla nascita di Gorky, è stata data lettura di un messaggio del ministro della cultura della Federazione Russa, Vladimir Medischi, che ha sottolineato come l'iniziativa rappresenta un momento fondamentale nelle relazioni tra Italia e Russia. Ascoltiamo il maestro Aleksandr Rukavishnikov, autore dell'opera. All'inizio mi è stato commissionato un busto e a me questa parola mi fa subito ribrezzo, perché durante l'Unione Sovietica questa nozione del busto scultore è stata completamente discreditata, perché se ne facevano uno più brutto dell'altro. e quindi all'inizio sarebbe stato forse più semplice fare proprio una figura intera, però ho iniziato a fare le bozze e piano piano questa idea, questo compito, mi sembrava sempre più fattibile, sempre più realizzabile. Presenti alla cerimonia, tra gli altri, l'ambasciatore d'Italia Mosca, Pasquale Terracciano, e il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo. Sono già molto solido, sul quale però stiamo lavorando per rafforzarlo ulteriormente, sia in campo economico, ovviamente in campo culturale e politico. Iniziative come questa sono molto importanti, perché avvicinano i popoli, non solo i governi, e sono contento che qui oggi ci sia questo angolo di Russia che può attirare i turisti russi, può creare ulteriori occasioni di incontro. La storia che continua tra due popoli che si sono sempre amati, la presenza dei russi già da quando regnavano gli zar, erano presenti a Sorrento. Abbiamo riportato a casa Gorki e sarà un'occasione per allacciare e continuare i rapporti culturali ed economici con un popolo sempre a noi vicino.